E' tornato prepotentemente d'attualità il tema riguardante la nascita della nuova Pescara. Nei giorni scorsi avevamo anche ascoltato ai nostri microfoni il presidente del Consiglio Comunale di Montesilvano De Vincentis che aveva espresso la sua contrarietà, almeno in queste modalità della nascita di questa città metropolitana. Qual è invece il pensiero del centro-sinistra, di progressisti per Montesilvano e del Partito Democratico? Io ribadisco quello che abbiamo sempre detto in campagna elettorale. Noi abbiamo detto che siamo in un percorso già avviato all'interno del quale siamo collocati come idea progressista e cioè innovatrice e pensiamo che quello debba essere il percorso che tra l'altro è stato dettato anche da norme, regole, referendum. Ora io immaginare che tutto quanto quello che è già accaduto, oltre alla opportunità di cui io sono convinto, possa essere messo in discussione perché è un'amministrazione che forse abbiamo sbagliato a votare. Intanto hanno votato i cittadini e non le amministrazioni. Mi sembra una cosa veramente fuori luogo. Piuttosto quello che bisogna fare è di mettersi a lavorare per fare in modo che questo momento, che sarà un momento costituente, sia il migliore possibile. E quello non accadrà in automatico, accadrà solo se le persone ci lavoreranno. Chi esprime la propria contrarietà dice che con la nascita della nuova Pescara, Montesilvano rischia di diventare l'estrema periferia di Pescara. Questa cosa a me veramente fa sorridere perché i territori appartengono a loro stessi per le caratteristiche che hanno. Ora se Montesilvano già nell'area metropolitana, a prescindere da questo fatto economico, rappresenta il turismo, rappresenta il polo alberghiero, rappresenta il polo congressuale, rappresenta anche altro. Queste cose già le rappresenta, ma se anche l'attività amministrativa possa essere gestita da un ente più grande, queste peculiarità le perdiamo? No, secondo me le possiamo valorizzare meglio.